Buonasera a tutti e benvenuti. La dobbiamo ancora capire. Le palme e le banane a Milano, Piazza del Duomo. Riassunto della situazione. Starbucks, colosso se non ero del caffè americano, finanzia un giardino esotico in Piazza del Duomo a Milano. Un architetto specializzato in giardini lo predispone, lo prepara. Le istituzioni approvano tutto questo. Da qui inizia una guerra ironica, anche mica tanto, se vogliamo poi pensare a quello che è successo dopo sul web. Insorge la destra, si parla di africanizzazione di Milano e poi grande cacciara, rogo, vengono bruciate nella notte, se non ero due di tre palme e con la speranza di cancellare questo giardino esotico. Si parla di un simulacro di odio collettivo, si parla di cretinismo, si parla di un'operazione sbagliata, quella degli americani che vengono da noi, buttano lì le palme, mettono dei denari. Pare che questo allestimento duri se non ero circa tre anni. È veramente successo di tutto, manifestazioni politiche, ostruzionismo in aula, problematiche comunali. Il sindaco dice ma mi piace o non mi piace tanto ma però è stato approvato. La sovrintendenza dice va bene è stato approvato. Movimenti politici di centrodestra o leghisti, mancano i cammelli, poi manca la sabbia, poi siamo nel deserto. Le banane gonfiabili che arrivano davanti a Palazzo Marino da parte dei consiglieri che vengono brandite e così ironizzate per quello che sta capitando. Pensatori di chiara fama dicono ma sì, le banane, Repubblica delle Banane è quello che noi ci possiamo aspettare e quindi stiamo zitti e non diciamo altro. Forte lo sfondo razzista, nazionalista e quindi anche qui si parla di disgregazione, di legami con la propria storia e che quindi insomma così ci spostiamo ad oriente essendo noi invece occidentali. In realtà le palme le troviamo anche in cittadine italiane, in altre piazze, in altri giardini e nessuno ha mai detto nulla su questo. A me non piacciono in piazza d'uomo le palme ma questo conta poco, è un discorso prettamente estetico, non è un discorso politico. In realtà però nell'Ottocento Milano aveva un giardino esotico proprio di questo tipo, con questo tipo di piante o comunque di essenze floreali o comunque di vegetazione e nessuno e nessuno diceva nulla. Si replica dicendo che nell'Ottocento però Milano era una città ordinata, non c'erano i neri, i gialli, i verdi, gli islamici e comunque lo sporco e comunque il degrado e quindi insomma era una cosa completamente diversa. Questa è una vicenda un po' surreale, un po' surreale che è assurda alle cronache nazionali e che forse vale veramente poco per quello che è. Non è piuttosto avvilente forse l'unico aspetto che possiamo cercare in questo, al di là del giudizio estetico di ognuno di noi, il farsi comprare, il ricevere dei denari e cedere il passo. Parlavamo qualche giorno fa del Partenone, il Duomo di Milano non è il Partenone, non è il simbolo della dignità e dell'orgoglio nazionale, per carità è una bellissima chiesa, monumentale, però ecco sembra quasi di cedere il passo. Arriva lo straniero, i soldi possono comprare tutto, i soldi possono fare tutto e questo forse è l'aspetto che mi piace meno nel descrivere quello che sta succedendo a Milano. La palma poi non conta insomma più di tanto, ecco avessimo piantato le querce, allora avremmo detto che siccome le querce sono molto diffuse in Germania e noi siamo contro la Germania, noi siamo contro la Merkel e noi siamo contro l'Euro e noi siamo contro l'Europa Unita perché allora ci saremmo spostati da questo lato dell'abbaricato o della discussione e allora no alle querce perché ci sono i tedeschi, no alle palme perché ci sono gli islamici. Poco, poco conta ecco questo aspetto, se una cosa è bella va tenuta, va gestita, va portata avanti e ecco non mettiamoci a fare gli esperti di giardinaggio e a cercare le essenze autoctone quasi come a dire in Lombardia soltanto piante lombarde, fesseria da un punto di vista generale insomma ecco non è questo il punto. Il punto è l'iniziativa forse visto che al 65% dei cittadini milanesi non piace, l'iniziativa non condivisa e l'inchino, vedasi schettino, vedasi la costa concordia, l'inchino allo straniero che porta denaro e che in Italia può venire e può pensare anche da noi di fare quello che vuole ed è per questo che io dico no, dico no a una piazza con le palme unicamente per questo motivo. Stava bene lì con il suo sagrato nel modo in cui tutti noi abbiamo così possibilità di poter gustare e godere questa piazza e questa meravigliosa chiesa. Grazie.